buongiorno a tutti allora arrivano nuovamente le call news perché siamo rimasti senza per un po che dirvi nella giornata di mercoledì siccome siamo chiusi però c'è la cena e quant'altro perché una delle mie colleghe festeggia gli anni quindi alla sera sarà cena da lei con tutta la il gruppo della favola cercherò di farvi il gran premio perché di dieci giorni fa e magari se riesco anche la moto gp sono amato gp la faremo della notte tra giovedì e venerdì o della notte tra venerdì e sabato ci proveremo o magari nella notte di mercoledì sto cercando piano piano di recuperare ma capite benissimo che adesso non è più come prima il tempo e tiranno però riesco lo stesso a farmi i miei due o tre video tutti i giorni però logicamente quando ci sono le gare si fa un po più fatica perché devo vederle le gare quindi devo trovare il mio spazietto le mie due ore due ore e mezza tre ore per la formula 1 anche tre ore per poterla vedere fare lo scrivano perché la moto gp è veloce sono 45 minuti più o meno anche se faccio lo scrivano in un'ora un'ora in quarto me la cavo la formula 1 anche se è più doiosetta però c'è dura di più dura quasi due ore devo anche bloccare scrivere quello che è successo se non succede granché magari c'è poco da dire ma lasciamo perdere e andiamo alle queste con news goduriose perché parleremo di una cosa dolce una cosa dolce per antonomasia che però è non bisogna abusarne perché fa bene ma fino a un certo punto per poi se se ne abusa è un problema poi parleremo delle strade romane le strade di roma di tanti tanti anni fa poi parleremo di andiamo in paleontologia paleontologia parleremo di un nuovo animalone del passato che ha trovato in un posto diciamo che visto il nome è un posto dove c'era un personaggio a cui piaceva il sangue ecco e c'è anche mi sembra che ci sia anche non si può darsi ci sia anche il trenino che fa il giro da appunto che si chiama così però forse quella è la trans siberiana e non qui però penso che ci siamo capiti di che posto parliamo concluderemo ancora parlando dell'antica roma ragazzi miei su una cosa che capitava a chi è in me doveva pagare e non aveva da pagare e quindi era un problema e veniva puntini puntini ma partiamo con la prima notizia di questa cosa dolce protagonista assoluto delle nostre tavole finisce spesso sul banco d'accusa come causa principale di diabete carie obesità e altri mali moderni stiamo parlando dello zucchero carburante principale dell'organismo alimento dalla storia complessa e curiosa tra i pilastri dell'economia mondiale e arma a doppio taglio per la nostra salute conosciamolo più da vicino sapevate per esempio che ne mangiamo tre volte quanto dovremo per l'organizzazione mondiale della sanità che nel 2015 ha proposto un dirigidimento delle linee guida sulla quantità massima di zuccheri naturali aggiunti da assumere solo il 5 per cento delle calorie giornaliere totali dovrebbero provenire da questa fonte di nutrimento il limite passato era il 10 per cento adesso l'ha portato al 5 si tratta di 25 grammi per un adulto pari a 6 cucchiaini da caffè in italia ne consumiamo in media 80 grammi al giorno tra quelli che aggiungiamo e quelli già presenti in alimenti preconfezionati si tratta di circa due chili di zucchero al mese nel mondo se ne consumano circa 70 grammi a testa negli usa 160 grammi lo zucchero però non è soltanto nei dolci se ne trova in abbondanza nel pan carré nel ketchup e nelle salse in generale dei sughi pronti e in tutti i prodotti da colazione yogurt succhi di frutta cereali che somigliano sempre di più per apporto calorico a dessert veri e propri negli stati uniti tre quarti di cibi e bevandi e confezionate contengono zuccheri o dolcificanti che aggiungono sapore a prodotti poveri di grassi ne modificano la consistenza e migliorano la conservazione altra curiosità sullo zucchero lo sapevate che si produce da ben 8 mila anni la canna da zucchero dalla cui bollitura e spremitura si ricava il saccarosio era coltivata in nuova guinea nel 6000 avanti cristo si diffuse poi nelle filippine in india dove menzionate in un testo del 400 350 avanti cristo e nel resto dell'asia furono gli arabi a portarla in europa introducendola nell'undicesimo secolo in spagna in sicilia l'isola vide sotto federico secondo una vera espansione di questo tipo di coltivazione sapevate che un tempo era una merce rara e preziosa quando intorno all'anno 1000 venezia e genoa iniziarono a importare il sale arabo messo tra virgolette o il miele senza api come veniva chiamato le difficoltà della coltivazione di canna da zucchero alle nostre latitudine resero lo zucchero una merce rara venduta nelle botteghe dei farmacisti come una spezia da usare con parsimonia contro la tosse o i disturbi di stomaco un carico di 100 tonnellate di zucchero nel 996 poteva costare l'equivalente di oltre un milione di euro attuali 500 volte in più di quanto lo pagheremmo oggi del 1200 450 grammi di zucchero valevano quanto 360 uova lo sapevate che si diffuse grazie alla scoperta dell'america chissà comero colombo introdusse nel 1493 la coltivazione della canna da zucchero nel nuovo mondo e coloni francesi portoghesi e spagnoli ne scoprirono in breve le potenzialità le piantagioni coltivate dagli schiavi africani iniziarono a rendere molto di più dei piccoli raccolti locali e il commercio dello zucchero si diffuse dalle americhe al resto del mondo facendone un prodotto sempre di lusso ma meno costoso e più diffuso sapevate che quello bianco non è meno sano di quello grezzo di entrambi casi si tratta di saccarosio un disaccaride costituito da glucosio e fruttosio lo zucchero di canna contiene in più piccole quantità di melassa il liquido scuso non scuro che si separa dallo zucchero durante la sua centrifugazione nella quale sono presenti minerali e vitamine ma le dosi di zucchero che assumiamo sono troppo basse per beneficiare di queste sostanze sapevate che da dove viene quello che mangiamo principalmente da canna da zucchero per il 65 70 per cento o da barbabietola da zucchero il 30 per cento circa che anche la barbabietola beta bulgaris in una varietà diversa da quella da insalata contenesse saccarosio è una scoperta più recente compiuta nel 1747 dal tedesco andreas margraff margraff quest'ultimo tipo di zucchero vide la sua esplosione sotto napoleone che ne incoraggiò la coltivazione per migliaia di ettari lo zucchero scuro è sempre di canna perché quello da bieta non contiene melassa quello chiaro può essere di entrambi i tipi lo sapevate che non è l'unico responsabile dell'epidemia di obesità un importante studio pubblicato nel 2015 sottolinea come l'aumento dell'obesità mondiale stia andando di pari passo con l'aumento della quantità giornaliera di calorie assunte e non solo dagli zuccheri se nel 1970 un americano medio assumeva in media 2109 calorie nel 2010 si è passati a 2568 calorie anche una revisione degli studi sul tema di ilisa tè morenga dell'università 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 otago in nuova zelanda ha concluso che gli zuccheri semplici messi tra virgolette in sé non fanno ingrassare più di altri nutrienti a parità di calorie fornite il problema è che chi mangia molti cibi zuccherati tende ad assumere più calorie in complesso quindi ingrassa non sapevate che peggio una bibita di una fetta di torta se l'avete sentito dire credeteci lo zucchero in forma liquida infatti non attiva i meccanismi fisiologici regati al senso di sazietà che di norma ci fanno sentire pieni e regolano l'assunzione di calorie come se non bastasse in una lattina può essere contenuto l'equivalente di 10 cucchiaini di zucchero pari a 38 grammi ben oltre quanto potremmo consumare in un giorno e con le bibite diet non va meglio come recentemente dimostrato sono solo una falsa soluzione al problema decima cosa lo sapevate che come sono nate le bustine bustine da zucchero no tititi le prime comparvero nel 1909 grazie al francese Ernest Picard che voleva proteggere lo zucchero dalle mosche dai microbi della polvere nei ristoranti si diffusero nel 1917 il loro contenuto non è lo stesso dappertutto negli Stati Uniti pesano tra i 2 e i 3 grammi per contrastare l'obesità in Italia tra i 4 e i 5 in Spagna 7 grammi mentre in alcuni paesi nordici si arriva a 10 lo sapevate che c'è un metodo per ridurne il consumo eccone due trucchetti ci sono almeno due modi per tagliare senza troppa fatica le dosi giornalieri di zucchero assunto il primo è smettere di zuccherare tè e caffè e di consumare bevande dolcificate il secondo è fare in modo che la propria colazione non sia a base di dessert scegliere cereali e succhi di frutta non zuccherati evitare di acquistare yogurt più simili a creme consumare torte, biscotti e brioche con moderazione beh io faccio un pasto al giorno quindi poi mangio giusto la bananina o due mandarini a seconda di cosa preferisco quel tal giorno non è che sto mangiando esageratamente bene dopo i consigli sullo zucchero e come non abusarne andiamo a parlare di strade romane anche dopo la loro scomparsa le strade romane hanno un curioso un curioso effetto sulle aree circostanti i romani certamente sapevano cosa stavano facendo quando si trattava di costruire strade e una nuova ricerca mostra che i percorsi che hanno tracciato migliaia di anni fa sono ancora oggi collegati alle aree di forte prosperità economica in altre parole se vivi vicino alla rete stradale romana stabilita più di 2000 anni fa è più probabile che ti trovi in una zona relativamente ricca il commercio il profitto e lo sviluppo con che queste strade si sono in qualche modo trasmesse fino ai tempi moderni originariamente non era quello l'uso principale delle strade gli antichi romani costruirono strade principalmente per facilitare gli spostamenti delle truppe ma nel tempo le strade iniziarono a collegare paesi e città importanti e nel tempo si sono adattate alle circostanze moderne queste le dichiarazioni dell'economista Ola Olson dell'università di Göteborg in Svezia ma è sorprendente che il nostro risultato principale sia che le strade romane hanno contribuito alla concentrazione delle città e dell'attività economica lungo di esse anche se sono scomparse e coperte da nuove strade ha concluso appunto il ricercatore al culmine dell'espansione dell'impero romano all'inizio del secondo secolo dopo Cristo erano stati costruiti circa 80.000 km di strade pensate 80.000 km di strade siamo nel 200 d.C. 1800 anni fa i ricercatori hanno sovrapposto le mappe delle strade dell'impero romano alle immagini satellitari moderne utilizzando l'intensità della luce notturna come indicatore approssimativo dell'attività economica la mappa è stata divisa in griglie più piccole per un'analisi più attenta misurando un singolo grado di longitudine per un singolo grado di latitudine il team riporta un notevole modello di persistenza tra i percorsi stradali romani e l'attività economica moderna nonostante gran parte dell'infrastruttura originalia sia ora completamente scomparsa resta il fatto che le strade abbiano stimolato l'attività economica o siano state costruite lungo percorsi che erano già prosperi ma ci sono indicazioni che la prima ipotesi sia corretta ovvero che i percorsi abbiano determinato un aumento del commercio e della ricchezza l'emergere di città-mercato lunghi percorsi sarebbe stato cruciale in epoche successive le antiche strade romane hanno ancora un misterioso messo tra virgolette effetto questa è la grande sfida in questo intero campo di ricerca afferma ancora Olson che aggiunge ciò che rende questo studio particolarmente interessante è che le strade stesse sono scomparse e che il caos dell'Europa occidentale dopo la caduta dell'impero romano sarebbe stato un'opportunità per riorientare le strutture economiche nonostante ciò il modello urbano è rimasto intatto i risultati non erano però coerenti ovunque in Nordafrica e Medio Oriente dove le carovane di Cammelli sostituirono il trasporto su ruote tra il IV e il VI secolo d.C. le strade romane non furono costruite o sostituite in queste regioni non c'è relazione tra le vecchie rotte e l'attuale prosperità economica e le aree sono completamente meno prospere dal punto di vista economico le decisioni su dove collocare i percorsi stradali e ferroviari hanno il potenziale per migliorare significativamente il clima economico in una particolare area e come dimostra quest'ultimo studio tale miglioramento può durare per molto molto tempo e i romani bene dopo i romani andiamo a parlare di paleontologia intanto allora facciamo un recap delle notizie per lo zucchero ringraziamo focus per la storia romana delle strade ringraziamo sia focus che scienze notizie perché non so da quale delle due è spuntata quindi per correttezza le nomino tutte e due e adesso andiamo a parlare un po' di paleontologia perché hanno scoperto queste cose qua le ossa scoperte di transilvanosaurus il transilvanosaurus forniscono nuove informazioni sull'evoluzione della fauna europea poco prima dell'estinzione dei dinosauri ha fermato il gruppo di ricerca un gruppo internazionale di paleontologi guidati da Felix Augustin dell'università di Tübinga in Germania ha scoperto una nuova specie di dinosauro nano vissuto circa 70 milioni di anni fa nel territorio che attualmente appartiene al geoparco internazionale dell'UNESCO della regione storica romena della Transilvania e quindi giustamente l'hanno chiamato Transilvanosaurus infatti il suo nome Transilvanosaurus platicefalus platicefalus significa letteralmente rettile della Transilvania dalla testa piatta poiché le specie affini precedentemente trovate nell'area avevano crani molto meno appiattiti rispetto al fossile trovato nel 2007 nella valle del fiume Barbat scoperto di recente il dinosauro erbivoro era lungo circa due metri camminava su due zampe e apparteneva alla figlia dei rabbodontidae 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 rabbodontiade don tidae rabbodontiade don tidae don tidae don tidae mamma mia ma chiamarli in una maniera normale no eh per far impazzire me come è spiegato nello studio sentiamo cosa dicono i paleontologi paleontologi le ossa scoperte parti del cranio del Transilvanosaurus Transilvanosauro sauro forniscono nuova informazione sull'evoluzione della fauna europea poco prima dell'estinzione dei dinosauri avvenuta circa 66 milioni di anni fa si legge nella dichiarazione dell'università di Bucharest come rivelato da Agustini il corpo del nuovo dinosauro era piccolo come quello di altri dinosauri trovati nel territorio della contea di Ateg il Transilvanosauro viveva in una delle tante isole dell'arcipelago tropicale quella che durante il Cretaceo era l'attuale Europa insieme ad altri dinosauri nani coccodrilli, tartarughe e pteurosauri che sono quelli che svulasse con ogni specie scoperta confutiamo l'ipotesi ampiamente diffusa secondo cui la fauna del Tardo Cretaceo avrebbe avuto poca diversità nell'attuale territorio europeo ha affermato il paleontologo che ha aggiunto le limitate risorse alimentari disponibili in queste parti d'Europa a quel tempo riducevano le dimensioni corporee di questi animali l'identificazione tassonomica è stata fatta da fossili di non più di 12 cm la parte posteriore del cranio e le due ossa frontali all'interno dell'osso frontale potremmo persino distinguere il contorno del cervello del Transilvanosauro ha detto il paleontologo Dylan Bastians dell'Università di Zurigo in Svizzera che ha aggiunto nella maggior parte dei casi le scoperte a Ateg consistono solo in poche ossa ma anche queste a volte possono fornire informazioni sorprendenti come nel caso del presumo Transilvanosauro esatto come ha affermato il professor Zoltan Ciziki Sava loro scoprono sempre questi piccoli dettagli queste piccole ossa ma sono solo una piccola parte del dinosauro come fai a dire che era alto 2 metri perché fai il calcolo allora il cranio doveva essere di 30 centimetri allora calcolando che l'animale sei volte la dimensione della testa allora se il cranio è 30 centimetri deve essere di 1 metro e 50 più 1 metro e 80 quello che è e allora l'animale era di 2 metri non lo puoi sapere cioè fanno ipotesi vabbè lasciamo stare il Transilvanosauro e torniamo nell'antica Roma perché nell'antica Roma i debitori e commercianti falliti venivano esposti a una pubblica umiliazione la bonorum cessio culo nudo super lapidem cessioni dei beni anatiche denudate sopra una pietra in quelle condizioni il malcapitato doveva gridare cedo bona ossia cedo i miei averi da qui l'espressione essere la pietra dello scandalo che significa essere oggetto di clamore per azioni riprovevoli in ogni città a Roma la pietra dello scandalo era un macigno vicino al Campidoglio ma ve ne sono in tutta Italia anche di periodi posteriori a Firenze ce n'è una nella loggia del Mercato Nuovo è un tondo che rappresenta la ruota del carroccio simbolo della Repubblica Fiorentina vi si compiva la culata la culata il fondoschiena di debitori e disonesti vi veniva sbattuto violentemente a braghe calate tra gli sbeffleffi dei presenti a Modena la pietra ringa d'ora della ringa perché anche usata come palco degli oratori in piazza grande veniva anche unta di trementina quindi vi lascio immaginare quei poveri disgraziati che si dovevano sedere sulla trementina non è che sia al massimo della vita va bene ragazzoli abbiamo concluso la prima serie di Call News adesso vi vado a fare la seconda serie altre quattro notiziole curiose particolari eccetera come vedete le Call News spesso e volentieri parlano di cose generiche che possono essere anche considerate news perché sono cose generiche si potrebbero raccontare tre anni fa come adesso parlare di zucchero il Transilvanosaurus l'hanno scoperto a dicembre del 2022 però poi abbiamo parlato della pietra dello scandalo quella lì e poi dopo di che cosa abbiamo parlato non mi ricordo già più mamma mia è preoccupante sta cosa ah delle strade di Roma strade romane ragazzi mia anche questa è una notizia che si può dare in qualsiasi momento si parla di storie in generale storia antica quindi bene io vi saluto vi ringrazio qui le notiziole tutte queste sono di scienze notizio focus quindi le innovino tutti e due così non faccio torta a nessuno d'altronde sono loro che mi danno queste belle cose succose piacevoli di cui parlare rendervi rendervi nota determinate cose anche del passato che magari non si conoscevano io vi saluto vi ringrazio perché mi sono dilungato troppo ci vediamo naturalmente alla prossima ciao ciao